Ci troviamo nella nuova Cargo City dell'aeroporto di Minamberg Morio Asserio. È una struttura, anche come vedete, innovativa, decisamente gradevole anche. È la finalizzazione di un progetto partito alcuni anni fa, all'interno del quale avevamo deciso di separare in modo netto quelle che erano l'attività del traffico passeggeri da quella che invece è l'attività logistica e cargo. Le infrastrutture che vedete appunto sono dedicate, sono state costruite per rendere funzionale e molto più veloce la gestione del traffico cargo. La location è esattamente di fronte al piazzale aeromobile, quindi le attività di assistenza, di carico e scarico delle merci si svolgono in maniera assolutamente efficiente e veloce. Qui di fianco abbiamo un barco doganale dedicato appositamente a questo tipo di traffico. Gli uffici della dogana sono a pochi metri e siamo all'interno di un parco logistico che vede la presenza già di un importante operatore come UPS.